Nel tardo pomeriggio di mercoledì i carabini della compagnia di Bari San Paolo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari a carico in un 70enne e in un 74enne, entrambi incensurati residenti nella provincia di Bari, ritenuti responsabili di aver compiuto diversi incontri a sfondo sessuale con un minore di 13 anni d'etnia Rom, residente in un campo nomadi di Carbonara. Le indagini militari dell'arma coordinate dal sostituto procuratore Marcello Quercia avevano preso il viaggio lo scorso mese di marzo, con la precisa finalità di porre fine al fenomeno della prostituzione minorire nell'area limitrofa allo stadio San Nicola. Area nella quale di recente, così come riscontrato nel corso delle indagini, il mercato del sesso a pagamento proponeva la triste offerta di minori provenienti dalle condizioni più disagiate dei locali Campi Rom, un fenomeno portato alla ribalta lo scorso 19 marzo da un servizio d'inchiesta realizzato dal programma Le Iene. Al culmine delle indagini, il 13enne vittima dei desideri sessuali dei due anziani arrestati è stato collocato in un ambiente protetto e sicuro e altrettanto è stato già fatto dalle autorità nei confronti di altri tre minorenni sottratte alle violenze della strada.